La più cordiale buonasera anche dalla redazione sportiva del TG Noi. Dunque dopo qualche giorno di riposo la Lucchese riprenderà domani, domenica alle ore 15, la preparazione. In caso di maltempo la società si è già organizzata per svernare eventualmente sul sintetico di Alto Pascio. Naturalmente mister Lopez spera anche in qualche rinforzo dal mercato, una sessione invernale che si aprirà lunedì e che si concluderà poi il primo febbraio. La situazione di classifica dei rossoneri, ancora ultime, la voglia di risalire la corrente, impongono ai dirigenti di non lesinare tutti gli sforzi possibili per rinforzare la squadra. In tal senso già lunedì dovrebbe essere la giornata dell'ufficialità di Francesco Marcheggiani, attaccante di 29 anni, prelevato dal Vispesaro. Sembra invece definitivamente sfumata, se mai ci fosse stata qualche possibilità, la possibilità di arrivare a Mirko Bruccini, ma la Lucchese prenderà, cercherà di prendere sicuramente un forte centrocampista. Il campionato, ricordiamo, riprenderà domenica 10 gennaio con la trasferta al Rigamonti di Lecco, anticipata alle ore 15. Anticipo anche per l'ultima di andata che la Lucchese giocherà sabato 16 gennaio, sempre alle 15, quando al Porta Elisa calerà la capolista e rivelazione stagionale Renate. Ancora calcio, parliamo però di Serie D, e comunque legato anche alla Lucchese, il centrocampista della Lucchese, Filippo Fazzi, andrà nelle prossime ore in prestito al Ghiviborgo. 21 anni martedì prossimo, Fazzi si è messo in bella evidenza lo scorso anno con 17 presenze e due reti nel campionato di Serie D con la Lucchese. Il direttore sportivo del Ghiviborgo, Pacitto, non nasconde il desiderio di chiudere al più presto l'operazione e di mettere il giocatore a disposizione di Rino Lavezzini, magari già alla ripresa del campionato di Serie D, che come sapete riprenderà mercoledì prossimo, 6 gennaio. Domani sera torna in campo il basket Lemura, dopo la sconfitta con Campobasso, le Biancorosse cercano un ritorno al successo che, pensate, manca dalla prima del girone di andata. Senza tregua, archiviata la sconfitta col Magnoli a Campobasso, il Gesan Lemura si accinge ad affrontare il San Martino di Lupari, squadra di medio lignaggio che veleggia a metà classifica. A complicare la situazione in casa bianco-rossa, i contrattempi che hanno caratterizzato gli ultimi tre mesi di una realtà tra le più belle espresse dallo sport lucchese in questi primi 20 anni del 2000. Fare a Marcor però non serve a niente e, come ha ricordato in quest'ora il presidente Cavallo, occorre metterci anima e cuore, professionalità e impegno, solo così si potrà uscire dal tunnel. La partita contro Campobasso di mercoledì sera ha ribadito le oggettive difficoltà e i limiti attuali di Lucca, aver perduto poi anche la Spriafico, il cui caso andrà comunque risolto, è stata un'ulteriore mazzata sul piano tecnico e non solo. Insomma, una squadra in evidente difficoltà che domenica sera, ore 18, al pala tagliate contro il San Martino di Lupari, cercherà di conquistare una vittoria che avrebbe un valore altissimo. Non sarà facile, ma Miccoli e compagni hanno il dovere di trovarci. Il pallone a spicchi racconta che, curiosamente, finora l'ultimo ed unico successo di questo trivolatissimo campionato è arrivato proprio contro le giallonere patavine. Era il 4 ottobre scorso, tre mesi fa, la prima giornata della 1 e parve solo l'avvio di un'altra stagione ricca di soddisfazioni, come tante ce ne sono state in questi anni. Lucca passò in modo autorevole sul campo delle Venete, col punteggio di 62 a 51, grazie ad una prestazione davvero maiuscola e pensare che già c'era stato il caso di J. Williams. Ed anche in precedenza, nei quarti della Supercoppa, Lemura aveva superato le Lupe, anche se di stretta misura. A questo forse ci si può affidare, anche all'antico adagio del non c'è due senza tre. E l'auspicio e la speranza sono davvero quelli. È già tempo di tennis internazionale in questo avvio di 2021 per le due nostre tenniste più importanti. Jessica Pieri e Jasmine Paolini impegnate nel torneo WTA di Abu Dhabi, nel tabellone principale del torneo che scatterà martedì 5 gennaio. Entra Jasmine Paolini, numero 96 al mondo. Jessica Pieri invece entrerà in scena già nelle prossime ore come numero 19 nel tabellone appunto di qualificazione. Naturalmente vi terremo debitamente informati. Una notizia di ginnastica ritmica ma molto bella, Sara Takaci della Ritmica Monte Carlo, che ha compiuto 17 anni pochi giorni fa, al 30 dicembre, e proprio sul finire del 2020 si è laureata campionessa italiana alla FUNE categoria Silver Senior nel campionato Winter Edition. questi lunghi 12 anni di carriera, cominciato da piccolissima veramente Sara, è stata seguita passo dopo passo dal tecnico federale Tatiana Grefzeva e naturalmente per lei ci sono anche i complimenti di tutta la Ritmica Monte Carlo. A proposito di giovani atleti, in questo caso parliamo di una grande promessa del nostro motorismo, parliamo delle due ruote, parliamo di Filippo Bianchi. Dopo la bella stagione 2019 nel campionato italiano categoria pre-Moto 3, chiusa con due vittorie e un secondo posto nella classifica finale del campionato italiano, Filippo Bianchi ha fatto il suo esordio nella Moto 3. Una stagione disgraziata, caratterizzata dal Covid-19 più che dai risultati in pista. Si sono svolte solo quattro delle segari in programma. Moto nuova, team nuovo al Mugello, il giovane Centauro Lucchese si è trovato a guidare una moto molto sofisticata ed impegnativa, solo in occasione della gara, senza effettuare un solo turno di test. In esperienza sul mezzo, prestazioni modeste hanno determinato risultati inferiori alle attese nelle due gare disputate. Trend in miglioramento nel secondo appuntamento a Misano, con un ottavo e un decimo posto e tempi incoraggianti, tanto da convincere il fornitore dei motori a dargli uno step in più di potenza. Ma tutto ciò ha coinciso purtroppo con un infortunio alla spalla sinistra dopo una rovinosa caduta in allenamento che lo ha penalizzato e non poco nei successivi appuntamenti di Imola e Vallelunga, vanificando anche una maggiore esperienza. Nonostante tutto, le sue doti non sono passate inosservate e per il 2021 Filippo Bianchi ha riscosso la fiducia del team Top Gresini Racing con l'obiettivo di puntare dritto al bersaglio grosso. Per il momento è stata fatta solo una visita alla sede del team, in attesa di iniziare il vero e proprio lavoro di avvicinamento al campionato italiano, fissata Covid-19 permettendo a fine aprile. Infine aggiungiamo che anche quest'anno il giovane Centauro Lucchese fa parte del programma federale Talenti Azzurri. Con Filippo Bianchi si chiude anche la pagina sportiva del TG Noio, vi ringrazio come sempre per l'ascolto. Dopo una breve pausa il TG prosegue con la terza ed ultima parte. Buonasera. Grazie.